53 anni al servizio del Signore e della Chiesa. La comunità di San Fratello, nel Messinese e tutta la diocesi di Patti piangono Don Salvatore di Piazza, che ha concluso l'esistenza terrena assistito dalla fede dopo una lunga malattia. Domani mattina l'ultimo saluto nel corso dei funerali presieduti dal vescovo Guilmo Giombanco. Don Salvatore di Piazza era parroco emerito delle parrocchie Maria Santissima Assunta, San Nicolo di Bari e Maria Santissima delle Grazie a San Fratello, dove era nato il 25 febbraio 1945. Alunno del Seminario di Patti, fin dal 1956, è stato ordinato presbitero da Monsignor Giuseppe Pullano il 15 agosto 1971. Subito dopo l'ordinazione è stato collaboratore parrocchiale della parrocchia Santa Lucia di Mistretta e poi, sempre a Mistretta, parroco fino al 1985 a Santa Caterina, dove è ancora vivo il ricordo del suo magistero. San Teodoro e San Fratello sono state le tappe successive della sua missione pastorale. Nel centro in cui era nato è stato parroco dal 1990 al 2022, quando per raggiunti limiti di età si era ritirato in famiglia. Grazie. Grazie. Grazie.